Ciao a tutti! Oh mamma mia che video frivolo! Matteo, perché? Come hai potuto? Come hai osato? E perché ogni tanto mi piace fare i video frivoli e so che a molti di voi sotto sotto non aspettano altro. Furbetti, iniziamo subito. Oggi ho voluto fare questo video assolutamente non colto, assolutamente non profondo, ma mi faceva ridere e quindi 100 cose random che non sai su di me. E' una cosa che molti youtuber hanno fatto in verità. Io ad esempio l'ho visto da Barbixanax, mi sembra che l'abbia fatto anche Violetta Rox, se non ricordo male. Comunque è un video in cui si sparano 100 cose e chissà quante ne sapete, sono delle curiosità. Mi fa ridere, non lo so, mi piace farlo. E quindi lo facciamo, va bene? Iniziamo subito. Vediamo se le sapevate tutte. Allora, non le numero, le dirò così, senza neanche il montaggio. E questa è una cosa trasgri. Ho vissuto senza smartphone fino a due anni e mezzo fa. Per addormentarmi, io ho una playlist segreta in cui ho tutti i video sfogo di YouTube che trovo cercando a caso, ora basta, adesso basta, ora parlo io. Me li salvo in una playlist e li guardo prima di andare a dormire. Le mie canzoni preferite in assoluto sono All is Full of Love e Pagan Poetry di Bjork. Il mio album preferito, invece, è A Promise degli Shushu. Il mio cibo industriale preferito è la torta del mulino bianco, quella al limone, che è buonissima, non la batte nessuno. Sono allergico alla musica pop latina. Non la posso sentire. Infatti è un dramma durante l'estate. Non c'è cosa peggiore, a livello culinario poi, del cotechino. Il cotechino, secondo me, è proprio no. Infatti, il capodanno è il vero incubo. Io, se vengo invitato a una qualche festa dove c'è il cotechino, sto male, perché il solo odore mi fa star male. Non lo posso vedere, mi spiace. Poi, una cosa che faccio, a volte, è inventare delle canzoni. Ma sono delle canzoni delle quali, nel momento in cui le invento, sono talmente convinto che mi sembrano hit planetarie e mi sento orgogliosissimo con me stesso. Invento anche i videoclip. Sto lì proprio a svisionare ed è una cosa bellissima. I due film che mi hanno convinto ad amare la foglia alla storia del cinema, il cinema in generale, sono Vive l'Amour di Tsai Milian e Ferro 3, La Casa Vuota. Film che mi nomino sempre facendomi una testa così. Il mio regista italiano preferito, invece, è Michelangelo Antonioni. Il mio film preferito di quando ero piccolo, Matrix. Ah, adoro anche Mean Girls, se non si fosse capito. Non posso vedere un font brutto. Se vedo un font brutto, sto male. Non posso neanche vedere qualcuno che indossa una polo o una camicia col colletto alzato. Secondo me è uno dei peggiori attentati alla moda. Sono anche allergico ai marsupi. Sono veramente brutti. Nei mesi freddi arrivo anche a bere cinque tazze di tè caldo al giorno. Sì, mi urta tantissimo camminare in strade affollate, perché la gente va piano. Perché vanno piano? È una cosa che non sopporto. E la cosa peggiore è anche quando, in queste strade affollate, una persona si ferma in mezzo e sta lì così. E tu ti chiedi, ma perché ti sei fermato? Magari controllano il cellulare. Ma mettiti a lato. Da questo punto di vista, mi è venuto in mente, odio cercare parcheggio. Non si fa. Non si cerca parcheggio. Se non si trova parcheggio, io torno a casa. Non mi piace per niente svolgere attività burocratiche. Le scartoffie. Andare. Andare a pagare. Ovviamente andare a pagare, vabbè. Andare a firmare roba. E stai lì. E sono cose lentissime. E sono cose dove devi sbatterti. E non hai mai tempo di andarci, ma devi andarci. No, 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 no. Infatti le lascio sempre all'ultimo. Cosa da non fare, perché è meglio farle il prima possibile. Non ho mai visto una puntata di Game of Thrones. E non ho neanche Netflix. Mando tuttora gli sms. E la mia frase di Whatsapp è Hey there, I am using Whatsapp. Ho dormito durante il primo film del Signore degli Anelli. Ho un debole per le cose talmente brutte da diventare dei capolavori. I miei generi musicali preferiti sono il noise, il post-punk e il black metal. Ma ascolto anche Britney Spears. Da adolescente mi sentivo e mi ritenevo dark. I paesi meno comuni che io vorrei visitare nella mia vita sono l'Estonia, la Lituania, la Macedonia. Ebbene sì, mi ispirano. Ogni anno che passa magari questa cosa succede anche a voi non lo so, ditemi se sì o meno. Ogni anno che passa io riguardo il me stesso del passato e penso a quanto fossi stupido l'anno precedente. È una cosa bellissima. Non riesco mai a uscire da questa cosa. Nessuno deve assolutamente mai provare a chiedermi cosa fai a Ferragosto, cosa fai a Capodanno, perché finisce male. Quando avevo il telefonino vecchio, quello che ho tenuto fino a due anni e mezzo fa, che era un Nokia 3310, non ho usato una suoneria diversa da quella che avevo, che è quella preimpostata, perché quando ho scoperto che significa SMS in codice Morse, io ho adorato tutto e quindi l'ho tenuta. Però una volta ho scaricato una suoneria quando ero in prima media, andavano di moda a comprare le suonerie, io l'ho fatto una volta e la suoneria era You Weren't There di Lene Marlin. Io piango ogni volta che partono le prime note di basso di Every Breath You Take The Police. Da adolescente componevo canzoni elettroniche che poi condividevo su MySpace. Da piccolo poi gestivo anche una casa editrice con l'Ale, ma forse questo lo sapete. Se volessi imparare a studiare seriamente musica, il mio strumento ideale sarebbe il violoncello, mi piace troppo. Ho molti film nel cassetto che voglio fare, mancano i fondi, mancano gli attori. Si vedrà in futuro. Una volta sono finito sul Corriere della Sera. È successo quando c'è stato uno sciopero dei treni ed ero imbufalito. C'era il Corriere della Sera che fermava gente a caso per chiedere opinioni e feedback e io mi ero arrabbiatissimo. Hanno messo anche la mia foto sul giornale, credo. Vabbè. Ho una sessione sana per i pantoni. La prima youtuber che ho seguito in assoluto con frequenza è stata Gemma del Sud. Mi mangio le unghie. Ho scoperto BookTube cercando recensioni online di uno Q84 di Haruki Murakami. La prima recensione che mi è uscita è stata quella della mia amata Ilenia. Bacione a lei dove lo demoliva. Bello. Al liceo mettevo spesso le camicie a scacchi. Ora non ne metterei neanche una. Abito in campagna ma voglio vivere in città. Amo correre. Mi piace tanto. Se non faccio almeno 10 minuti di palestra al giorno sclero male. Prima dell'Azuko ho avuto tantissimi altri gatti. Vincent, Tenji, Paprika, Rosmarino, Sehiva, Sumitra, Spotti. Avevo anche una gatta che si chiama Trottolina. Oh, vabbè, tantissimi. Il mio colore preferito è il nero. Da ragazzino vestivo solo di nero. Il mio armadio era solo nero, non avevo altri colori. Anche il grigio no, era troppo light. Detesto le cimici, mi fanno veramente schifo, non le voglio assolutamente vedere. Ogni volta che esce una canzone pop nuova io la prima cosa che penso è non ci sono più le ite di una volta e mi chiedo sempre ma dov'è il ritornello? Ma dov'è il ritornello checci? No, invece no, no. Ogni volta dico non ci sono più le ite di quando ero giovane. Voglio visitare la Sardegna. Da piccolo adoravo la follia, ok, il prezzo è giusto con i vazzanicchi, bellissimo. Non amo i romanzi storici, neanche quelli fantasy. Non amo i film di guerra, assolutamente. Tranne, vabbè, rari casi, tipo Apocalypse Now che è molto molto bello, Human Condition, ci sono dei film di guerra veramente belli ma in generale non mi piacciono. Non so cantare, purtroppo, ma canto spesso. Il mio programma tv preferito da bambino era Chi l'ha visto? Da piccolo adoravo anche CSI, mi piaceva molto anche Grey's Anatomy. Non so disegnare, per niente, odio i tormentoni estivi. Ogni volta che l'estate finisce piango perché finisce l'anguria. Sto malissimo, ne mangiavo tantissimo, ma poi sono felice perché arriva l'uva. Anche quella mi piace molto. La mia vacanza ideale è città in Europa o all'estero, comunque città, visitare una città. Non sono... Il mare, sì, ma una volta sola, un giorno solo, non una settimana intera. Da piccolo giravo, spesso, cortometraggi con i miei gatti come attori che poi doppiavo in studio. Bellissimo. Alle media ero un fan svegatato di Avril Lavigne. Il viaggio più life-changing che io abbia mai fatto è stato in Bosnia, in particolare Sarajevo. Il posto più bello che ho visto, invece, è assolutamente il Montenegro. Il mio drink preferito è il Moscou Mule. Il mio piatto preferito è il sashimi di salmone. Il mio frutto preferito è l'avocado. Il mio vizio più grande è il caffè. Ne pieno tantissimo. E io più vado avanti con sto video, più sto pensando ma la gentina frega da qualcosa di queste cose. Vabbè, mi fa ridere. Il calcio mi annoia profondamente. Non lo posso vedere. Da piccolo poi sognavo di far parte di una boy band. Bellissimo. Erano anche quegli anni lì. Il mio giocattolo preferito da piccolo erano proprio le macchinine. Le mettevo lì in fila, facevo lingue orchi stradali, era tutto bellissimo. Ne avevo centinaia. Centinaia. All'asilo fingevo di sapere l'inglese e inventavo parole inglesi che non esistono. Però, successivamente, ho inventato veramente una lingua straniera. un po' di glotta qua. Alle medie giravo con il lettore cd perché non esistevano gli mp3 e non esistevano gli ipod e quindi si girava con il lettore cd sotto braccio. Ci sono giorni che proprio non ho voglia di uscire ed è sempre il giorno in cui tutti gli amici ti cercano per uscire e tu non hai voglia. Non hai voglia minimamente. non mi piace assolutamente fare le code non esiste non le faccio no purtroppo le faccio però cerco di delegarle. C'è una professione che è il codista c'è gente che fa il codista fa la coda per te bellissimo ecco io diventerei povero pur di pagare il codista non mi piace assolutamente sono contrario alle persone che ti interrompono mentre stai ascoltando musica o stai leggendo non si fa origlio spesso le conversazioni degli altri sui treni e poi mi capita di divagare sulle vite passate delle persone che incrocio per caso in strada mi invento proprio alberi genealogici mi invento tragedie disgrazie cose positive do proprio una storia per ogni persona che incrocio quando ovviamente però capita molto spesso quando sono sul treno che sei un po' libero di divagare e ti inventi la vita degli altri bellissimo a volte non ho voglia di leggere sì è strano ma sì e non ho voglia neanche di guardare film mentre ci sono altre volte in cui sono anche capace di guardarmi più film di fila se se ho tempo naturalmente quando sono al telefono cammino sempre non mi piace stare seduto devo camminare cammino anche mentre leggo poi voglio andare in Scandinavia assolutamente il mio numero preferito è radice di meno uno io sono sempre complicato da piccolo ho fatto pallavolo come sport ballo male ma credo di ballare benissimo sono pienamente convinto quando ballo mi sento veramente Justin Timberlake il trash mi fa ridere dormo molto poco ho inciso degli album autoprodotti su cassetta non sto scherzando che ora farebbero un sacco indie ma io non li pubblicherò mai non mi piace per niente andare al pub mentre c'è una partita in tv non esiste e non mi piace neanche quando qualcuno ti ferma qualcuno che conosci di vista che non vedi da anni ma ci vediamo per un caffè ti propongono quando sono i primi a pensare che il caffè non lo berranno mai con te a proposito di caffè il caffè è solo amaro non si mette lo zucchero così come non si mette lo zucchero nel tè potrei mangiare però potrei mangiare chili e chili di broccoli sono la mia ossessione e per concludere il mio capo di vestiario preferito è il completo il completo elegante che metto molto spesso e niente questi sono i 100 random facts su di me mi fa molto ridere questo video non so voi come la prenderete però ci sta un video frivolo ogni tanto spumeggiante sempre sia io vi saluto vi mando un bacione vi aspetto al prossimo video ah ditemi qualche random fact su di voi abbastanza divertente un bacione ciao ciao evviva